Sono Francesca Qualova, rappresento l'Associazione Casa Artigiani nel Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino. Mi è stato chiesto se lo smart working può essere un valido strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La risposta per quanto mi riguarda è sicuramente sì. Uno degli obiettivi dello smart working è appunto quello di dare maggiore flessibilità al lavoratore e alle lavoratrici per permettere una migliore conciliazione dei tempi privati rispetto ai tempi lavorativi. È un argomento nel quale tutto il comitato dell'imprenditoria femminile di Torino crede e quindi abbiamo organizzato tutta una serie di seminari e di approfondimenti in passato e avremo intenzione anche per il futuro di continuare ad approfondire l'argomento e sensibilizzare le aziende e i lavoratori e le lavoratrici in questa direzione. La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro è un argomento chiave per quanto riguarda l'occupazione femminile nel mondo del lavoro in quanto la donna è ancora oggi il soggetto sul quale pesa di più l'ambito familiare quindi la cura dei figli e degli anziani e pertanto è importante trovare degli strumenti e delle modalità di lavoro che permettano alla donna non solo di lavorare ma anche di rivestire dei ruoli apicali. Mi auguro quindi che la modalità smart working sia sempre più utilizzata e che possa portare a un miglioramento delle qualità e della partecipazione femminile al lavoro e che riduca sicuramente anche il gap che in questo momento c'è per quanto riguarda l'occupazione.